Nel primo pomeriggio a Torino una colonna di fumo si è alzata dagli ultimi piani degli uffici del convivio Benistabili, ex Fiat, all'angolo tra Corso Peschiera e Corso Ferrucci. Praticamente siamo scesi immediatamente, siamo usciti fuori e poi abbiamo visto il fumo, anche perché effettivamente capita a volte che l'allarme magari scatta, quindi non eravamo preoccupati più di tanto, abbiamo lasciato tutti i computer, tutti gli attrezzi di lavoro e siamo venuti fuori, un lavoro qua al secondo piano. Sembra che sia stato dal tetto, anche perché stavano facendo dei lavori sul tetto, infatti c'era una nuvola enorme, ci sono stati degli scoppi e addirittura la fiammata. Quando è iniziato tutto? Saranno state le due e mezza, dopo pranzo, ma sono state più o meno le 14.30. Quale può essere stata la causa? La causa sinceramente non lo so, quello che so è che stavano facendo dei lavori sul tetto, quindi probabilmente questa è la causa, però sinceramente non saprei.